A Berlino non si balla più. I nightclub e le sale da ballo da questo weekend sono chiusi nella capitale tedesca. La decisione è stata presa dal Senato che governa la città per prevenire il rischio di contagio provocato dal coronavirus dopo diversi casi riscontrati nel famoso bar trumpet. Musei, biblioteche e teatri avevano già chiuso i battenti. Questa è la più grande crisi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non abbiamo mai visto una minaccia così grande per la scena culturale. È possibile che alla fine di questa crisi gran parte della cultura per cui Berlino è conosciuta e grazie alla quale molti si sentono bene qui, sparisca. La direttiva non fa sconti. Vanno chiusi i luoghi dove le persone sono vicine, dove si balla e c'è molto rumore. Se le persone nel club si urlano nelle orecchie per coprire la musica ad alto volume, allora la trasmissione è più facile, spiega il portavoce dei medici del servizio pubblico di Berlino.